Un capitano molto propenso al dialogo diretto e non mediato con i singoli cittadini, ci riferiamo al nuovo comandante della compagnia Carabinieri con sede a Borgo Valditaro, ovvero il capitano Agostino Gentile, egli è sopraggiunto a Berceto per un incontro con la cittadinanza locale, svoltosi lo scorso martedì 12 gennaio 2016 in una sala consigliare gremita di pubblico. Il sindaco di Berceto Luigi Lucchi ha compiuto gli onori di casa. La collaborazione tra me ed il maresciallo Damiano Novetti, comandante della stazione di Berceto, è giornaliera e molto proficua in diversi campi d'azione, ha sottolineato il primo cittadino ed in ciò elogiata dal capitano Gentile. Il capitano Gentile non ha voluto solamente fare il conferenziere, ma anche interloquire con le persone presenti, in uno scambio di idee e di esperienze che sono state utili ai cittadini per salvaguardarsi ancora meglio dai truffatori, persone molto scaltere che dall'apparenza e dai modi non si direbbero tali, ha rimarcato il capitano Gentile. Il capitano Agostino Gentile, se detto compiaciuto del buon inserimento che l'arma gode nella comunità Bercetese, persone davvero per beni Bercetesi, egli ha sottolineato, in quanto avviene un proficuo scambio di informazioni a livello di base, tra singolo carabiniere e singolo abitanti di Berceto, che consente agli inquirenti di fare molta prevenzione sul territorio e a volte di sventare l'atto criminoso. Insomma, un territorio, quello Bercetese, che è ancora rimasto quasi immune dall'incremento della micro e della macro criminalità che si registra nelle aree a forte densità demografica. Ma per continuare a godere di questo buon stato di benessere, egli ha sottolineato, occorre il desiderio e l'impegno perseveranti di ogni singolo cittadino di Berceto, il quale non deve esitare a contattare l'arma al 112, anche per il minimo sospetto o di qualche cosa di insolito dal normale.